Sabrina Franco Buonasera e grazie, grazie per questa meravigliosa accoglienza. Vi chiedo scusa, ho un po' di raucedine, arriverà anche qualche colpettino di tosse, mi perdonerete, però ci proviamo, io non ho voluto rimandare, rinviare oltre questo momento, era necessario e la voglia di incontrarvi era tanta e quindi ho detto affrontiamo anche con la tosse, va bene così. Salvo su questo palco sempre con grande emozione, l'ultima volta da candidata l'ho calcato dieci anni fa ma ci sono risalita ancora cinque anni fa da consigliere uscente a sostegno della loro lista Roseto Futura. E a proposito di questo colpo subito l'occasione per salutare gli amici della lista numero uno. Alla maggior parte di loro sono legata dai rapporti quotidiani fatti di affetto, amicizia, stima, condivisione professionale e per quanto mi riguarda rimarranno tali anche oltre questo palco che in questo momento ci vede contrapposti democraticamente in questa campagna elettorale. Ciao a tutti. A proposito di contraddizione o meglio a proposito di contrapposizione è famosa di quella famosa lente di ingrandimento a cui giustamente tutti i candidati sono sottoposti, legittimamente tutti i candidati sono sottoposti. Io lo sono maggiormente, lo sono ancora di più perché non essendo neofita e avendo avuto un trascorso amministrativo non troppo breve e neanche con ruoli troppo marginali, 10 anni di assessorato, qualche anno di presidenza del Consiglio. Insomma, non voglio neanche per un minuto sottrarmi a rendicontare, a rendere conto alla cittadinanza, a chi mi ha sostenuto in passato, a chi mi sta sostenendo adesso per motivare quelle che sono state le mie scelte, i miei percorsi e perché oggi mi trovo candidata nella lista numero due Siamo Roseto. Lo faccio con animo sereno perché le ragioni stanno in realtà nella piena condivisione di alcuni principi e valori che il candidato a sindaco Giovanni Pugliese ritiene fondamentali per una corretta gestione della cosa pubblica, per un metodo amministrativo corretto e anche per un approccio più in generale nei confronti di quella che è la Casa Comunale e i cittadini, la cittadinanza di Roseto, la comunità. Principi e valori che sono sempre stati anche miei, lo sono sempre stati in passato, qualche volta è stato più facile farli prevalere e qualche volta meno, non tanto per mancanza di coraggio, di debolezza, ma più per quel famoso spirito di gruppo, quel senso di responsabilità. Principi e valori che anche dopo, con l'occhio del cittadino libero che guarda in maniera esterna, in maniera forse anche più distaccata, ho trovato troppo poco e sempre meno rappresentati e applicati negli ultimi anni di vita amministrativa. Voglio anche dire che il mio allontanamento da quella che è stata la mia, consentite me l'ho virgolettato, casa politica per molti anni non è di oggi, non avviene oggi, non è avvenuto un mese fa e neanche un anno fa. Parte da più lontano, gli amici della lista numero uno questo lo sanno bene e credo che non sia sfuggito nemmeno a molti di voi, cittadini più attenti, la mia assenza da alcuni contesti negli ultimi anni, la non partecipazione ai consigli comunali, la scarsa partecipazione ad iniziative pubbliche, la scarsa condivisione, la non partecipazione sui gruppi, sulle pagine social dell'amministrazione. In due parole, credo che a nessuno di voi sia sfuggito il mio silenzio, quel silenzio che a volte è più eloquente di molte parole e che a volte fa più rumore di tante polemiche. E' quel silenzio che nel mio caso, date le circostanze, probabilmente era anche l'unica forma possibile di manifestare un dissenso. Questo per rispondere, naturalmente lo faccio con un sorriso, alleggeriamo un pochino i toni, per rispondere alle tante chiacchiere, alle storielle che in questi giorni, in queste settimane, ma è normale anche che sia così, mi rendo conto, vengono raccontate nelle case, nei bar, nelle piazze, quelle reali, quelle virtuali. Allora, nessun colossale tradimento, nessun saltino della quaglia dell'ultima ora e soprattutto nessuna candidatura contro qualcuno o qualcosa. Semplicemente le strade a volte possono dividersi, un po' come succede a una coppia che si separa, no? Penso a questo come la fine di una relazione tra persone intelligenti che avendo condiviso tanti bei momenti, anche significativi, eppure avendo saputo realizzare insieme sogni e progetti, un giorno scoprono che non c'è più sintonia, non c'è più unità di intenti, per cui non c'è più ragione di andare avanti. E una separazione è dolorosa, certo, una separazione sempre dolorosa, ma si può sempre scegliere come affrontarla, in maniera burrascosa o in maniera civile. Io ho scelto di farlo con rispetto e civiltà, senza rancore, senza rinnegare quella che è stata una storia, una parte importante della mia vita e salvaguardando tutto quello che di buono c'è stato. C'è stato tanto di buono, c'è stato tanto, tante belle idee, tanti progetti, i cui semi sono stati piantati anche da me, quindi figuriamoci se io voglio rinegarlo. Però oggi è tempo di un nuovo inizio, ed è quello accanto a Giovanni Pugliese e alla lista Siamo a Rosetta. E' noto che la mia candidatura sia arrivata in maniera tardiva ed imprevista, ma d'altra parte, guardate, credo che non sia stata solo la mia di candidatura che è arrivata in maniera tardiva e imprevista. Un nuovo impegno in prima linea non era stato da me considerato, per mille ragioni non era stato da me considerato. Concorderete con me che accettare questa candidatura, o meglio, non accettare questa candidatura, sarebbe stata una scelta per me molto più comoda. non mi avrebbe esposto a critiche, a giudizi. Diciamo, per dirla come si dice oggi, mi avrebbe lasciata nella mia comfort zone. Vero, sicuramente sì. Ma oggi dico anche che quella sarebbe stata una scelta molto più egoistica. e lo sarebbe stata soprattutto alla luce di quello che è accaduto giusto, giusto, giusto due settimane prima la presentazione delle liste elettorali. Quello che io ho definito, con tante persone con cui ho parlato, un vero e proprio terremoto emotivo che mi ha letteralmente travolto il cuore e la mente. Se ho deciso di impegnarmi e di metterci la faccia, come si suol dire, l'ho fatto soprattutto per loro e per il resto del gruppo nutrito di giovani che si sono avvicinati a me in quei giorni, svelandomi tutto il loro entusiasmo, tutta la loro passione, tutti i loro sogni, tutte le loro speranze. Ho visto nei loro occhi la luce nel sognare una roseto ancora più adatta alle loro esigenze, una roseto che risponda maggiormente ai loro sogni e alle loro aspirazioni. E guardate, nel chiedermi di accompagnarli in questo percorso, di stare loro accanto e di sostenerli in questo slancio, a dispetto del pregiudizio che io stesso avevo, forse frutto di una narrazione negli anni spesso distorta, lo hanno saputo fare in punta di piedi, con una tale umiltà, un tale rispetto, una tale educazione e un tale garbo che mai avrei immaginato e che mi hanno profondamente emozionata. così come potrei parlare a lungo dei tanti amici e famiglie, anch'essi delusi dagli ultimi anni di questa amministrazione che pure avevano votato e sostenuto e che mi hanno chiesto con forza di trovare il coraggio di impegnarmi ancora in prima persona, fiduciosi e convinti che alcune delle mie competenze specifiche e delle mie esperienze, unitamente alle mie caratteristiche personali e caratteriali, possano contribuire a rispondere alle rinnovate esigenze di questa comunità. Ho deciso quindi di fare una scelta al tempo stesso di cuore e di responsabilità perché è anche da questo che passa il senso civico e la responsabilità di appartenere ad una comunità di persone. A chiamata si risponde e quando la chiamate come quella che è arrivata a me, il coraggio per il nuovo impegno arriva con forza direttamente da lì. E allora questa è l'occasione per ringraziare io tutti voi io tutti voi pubblicamente per questa fiducia incondizionata con la promessa che sarò accanto e insieme a voi sempre per condividere percorsi per osservare e sviluppare nuovi punti di vista e con l'impegno e la speranza di non deludervi mai. avremo occasione naturalmente di entrare nei dettagli e declinare meglio sia quello che vuole essere il il programma diciamo i punti programmatici della della lista numero due e soprattutto i temi quelli centrali il focus la linea guida che intendiamo portare avanti dopo l'otto e il nove giugno quando ci avrete portato a vincere queste elezioni. ma ma adesso è tempo di chiudere perché gli interventi che seguono sono saranno corposi per cui io a questa meravigliosa piazza e a chi stasera non è qui ma domani probabilmente ascolterà le registrazioni ripeto ora è tempo di un nuovo inizio ed è quello accanto a Giovanni Pugliese e alla lista siamo Roseto una squadra che non si propone contro chi ha amministrato sinora ma che si propone proattivamente per offrire alla comunità di Roseto un'alternativa dando la possibilità di scegliere democraticamente fra due diverse contagine amministrative fra due diversi distinti modus operandi nella gestione della cosa pubblica fra due diversi modi di rapportarsi con i cittadini perciò l'8 e il 9 giugno fai la differenza volta lista numero 2 siamo Roseto candidato a sindaco Roseto grazie Sabrina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti